Cambiare è cool, perché con Kia Stonic sei sempre alla moda. Cambiare è sporty, perché con Kia Sportage ti godi sportività e design. Cambiare è hybrid, perché con Kia Niro sei già proiettato al futuro. Grazie a Scelta Kia sei libero di guidarle tutte, perché dopo due anni decidi se sostituire, restituire, ottenere il tuo crossover. Qualità garantita 7 anni. Ben ritrovati cari amici, siamo nuovamente insieme, benvenuti nel mondo Kia Motors. Insieme a me Enrico Brucato a rappresentare l'azienda, benvenuti in Kia Torino 1. Ciao Enrico. Ciao Stefania e ciao ai nostri telespettatori. Allora ti vediamo un po' stanco sull'onda del grande successo del Salone Internazionale dell'Auto Parco Valentino Stand Kia Motors, dove la casa automobilistica ha interpretato al meglio uno dei temi dominanti, l'ecosostenibilità con l'ibrido, con Niro. Con Niro, lì l'abbiamo vista e apprezzata in una gamma plug-in, quindi con la possibilità anche della ricarica elettrica. Ovviamente la Niro esiste anche soltanto nella gamma ibrida, quindi due motori che funzionano in simbiosi e contemporaneamente. Tra le altre cose, proprio in contemporanea al Salone e in contemporanea ai mondiali di calcio, visto che Kia è sponsor dei mondiali di calcio, abbiamo una promozione eccezionale anche su Niro, dove arriviamo ad avere una campagna di supervalutazione del vostro vecchio usato, diesel o benzina, che dir si voglia, fino a 4.000 euro. Ovviamente la Niro, come tutta la nostra gamma, è possibile provarla su strada, quindi vi invitiamo qua in concessionario per provarla insieme a noi. Grazie Enrico per la tua precisione. Proseguiamo con una promozione mondiale. Voglio un po' scambiare le carte della nostra scaletta televisiva. Cosa prevede questa promozione mondiale? Abbiamo due fantastiche vetture in promozione mondiale, così denominata da parte della casa, in collaborazione sempre con i mondiali. Abbiamo la Kia Stonic, che vediamo qua alla mia a sinistra, in uno splendido blu col tetto bianco. Su tutte le motorizzazioni in pronta consegna del motore gasolio, quindi il 1.610 cavalli, abbiamo una promozione collegata alla scelta Kia, quindi la possibilità di cambiare la vettura ogni 2-3 anni, venite a scoprire come qua in concessionario, fino a 3.800 euro di campagna di supervalutazione del vostro vecchio usato. Su Sportage, quindi sul nostro cavallo di battaglia, arriviamo a toccare i 6.000 euro di supervalutazione del vostro usato, per tutti quelli che sono privati, e per le partite vive arriviamo anche a 8.000 euro. Sempre grazie a cosa? Grazie al contributo del finanziamento dell'acquisto con scelta Kia. E per farvi capire la competenza, la professionalità, ma anche e soprattutto la prontezza nel rispondere alle vostre esigenze, vi garantisco che Enrico Brucato, voi non lo vedete, ma non legge nulla, c'ha tutto non a mente, ma insomma conosce bene il prodotto e anche le soluzioni finanziarie. Picanto, velocemente. La nostra city car, 5 posti, benzina e benzina GPL, quindi con l'esenzione del bolo per i prossimi 5 anni, 2.250 euro di campagna di rottamazione o di supervalutazione del vostro usato, e su tutta la gamma GPL, tasso 0 fino a 3 anni con scelta Kia. Vi aspettiamo numerosissimi. Abbiamo ancora qualche secondo per Sorento e poi ricordiamo gli indiritti. Sorento pronta consegna, 12.000 euro, avete capito bene, 12.000 euro di supervalutazione del vostro usato e ancora una cosa, 7 anni di garanzia su tutta la nostra EAM. Abbiamo trasmesso da Corso Giambone 33, tutte le sedi dell'azienda sono a vostra completa disposizione, ma qui trovate Enrico Brucato che ci ha guidato in tv. Buon lavoro, alla prossima. Grazie mille a tutti voi. Alla prossima amici. Cari amici ben ritrovati, siamo ospiti di Nissan Valore. Un benvenuto da parte mia, ma soprattutto dal responsabile vendite dell'azienda, Luigi Cacavaro. Un saluto a te, Luigi. Grazie, buongiorno a tutti, bentrovati. Siamo ancora qui da noi, Nissan Valore Torino. Non so se avete notato il bellissimo colore della Micra. Ho appena ricevuto diversi colori e novità assolute. Infatti volevo invitarvi a scoprire questa meravigliosa vettura che sta avendo un successo planetario. Devo dire che anche l'azienda Nissan Valore qui in Corso Giambone ha riscosso grande successo e ormai un vero e proprio punto di riferimento per conoscere da vicino, provare su strada e acquistare la gamma Nissan. E questo ti ringraziamo per averci accompagnato televisivamente parlando. C'è qualche promozione interessante da dobbiamo dirla ai nostri amici? Certo, sulla nuova Micra in pronta consegna ci sono alcune sconti dedicati ai clienti fino a 3.500 euro di vantaggi. Questo ovviamente ve lo possiamo spiegare qui direttamente in salone. Ed ora seguiamo insieme Luigi perché parliamo di temi di grandissima attualità. Andiamo a presentarvi vetture elettriche e a guida semi-autonoma. È possibile da Nissan Valore? Nuova Leaf, auto nuova e innovativa di Nissan, 100% elettrica, quindi zero emissioni, innovativa in ogni suo aspetto, sicurissima ovviamente con le nuove tecnologie avanzate. Comprende anche la guida semi-autonoma, quindi ProPilot, con 40 kW di potenza. Quindi parliamo di una durata delle batterie sopra la media e ovviamente un'autonomia dichiarata di circa 380 km. Cosa può fare la nuova Leaf per voi? Può farvi cambiare completamente modo e visione dell'auto, ma soprattutto farvi spermiare ed essere più ecologici all'avanguardia con i temi. Eccoci qui con il nostro Qashqai, regina del segmento crossover, unica ovviamente nel suo genere, in quanto oggi vi presenta la guida autonoma, quindi ProPilot, già in funzione sulle vetture a cambio automatico e manuale, ma la cosa più interessante è la possibilità di provarla qui da noi, da Torino Valore, cosa che vi consiglio di pernotare al più presto. Disponibile il suo allestimento Tecna e Tecna Plus e ci sono anche grandi contributi sulle prontate a consegna. Vi aspettiamo per conoscere da vicino il Qashqai, la regina del segmento. Grazie a Luigi Cacavaro che ci ha portato per mano a scoprire per la prima volta nella nostra vetrina televisiva, possiamo parlare di guida semi-autonoma, già un ottimo livello, ma grande tranquillità amici, perché Luigi e tutto lo staff sono a vostra disposizione per scoprire questo ProPilot. È sempre necessario tenere le mani sul volante, quindi potete godere appieno delle prestazioni dell'auto, ma pensare già alla guida al futuro. X-Trail, per chi ama il fuoristrada, le prestazioni ovrò. Imbattibile, come sempre, l'X-Trail è la regina di casa madre, quindi è la prima vettura SUV di casa madre dedicata a una trazione 4x4 e cambio automatico, quindi disponibile già in pronta a consegna di diversi colori, tra cui questo è il nostro Dark Brown, che è appena arrivato, anche lei tra i anni di garanzia ai 100.000 km, come tutte le nostre vetture, e non dimentichiamo anche i nostri servizi, quindi assistenza e post vendita, qui dedicati con auto di cortesia sempre. Bene, questa è un po' la dice lunga sul servizio a 360 gradi, che solo la rete ufficiale di vendita Nissan vi può garantire, Nissan Valore a vostra completa disposizione, in corso Giambone, aperto sempre, sette giorni su sette, tutto lo staff, gli uomini debitamente preparati a vostra disposizione, capitanati da responsabile vendita, Luigi Caccavarro. La prossima in TV. Grazie, vi aspetto e vi aspettiamo anche domeniche sempre aperti. Grazie a te Luigi e grazie a tutti voi per la cortese. Attenzione, alla prossima. Voltiamo pagina, cambiamo marchio, parliamo di Subaru, sono ospite di Subaru Torino 1, mi trovo a Torino in Corso Ferrucci 24, ospite di Roberto Loconti, ciao. Buongiorno Sonia, buongiorno a tutti voi. Hai detto bene, ci troviamo nel salotto di Torino, alle spalle del Palazzo di Giustizia. Corso Ferrucci 24, tutta la gamma Subaru a vostra disposizione, tutta la gamma in pronta consegna. Bene, tutta la gamma in pronta consegna, e se l'acquistate, nessun problema, io lo ricordo, perché comunque il service è importante, nessun problema per quanto riguarda la garanzia e la manutenzione ordinaria, sono gratuite. Assolutamente sì, cinque anni di garanzia, chilometraggio illimitato, le prime tre manutenzioni ve le regala Subaru, qui da Torino 1, Corso Ferrucci 24. Questo è molto importante, soprattutto perché si pensa magari agli spostamenti, adesso alle vacanze, quindi è bene comunque far controllare la propria vettura prima di partire. Ma qui all'interno di questo showroom non c'è soltanto la gamma Subaru, io so che tu hai preparato una scaletta molto ricca, dedicata anche alle grandi occasioni. Certo che sì, come sempre, carta e penna alla mano, abbiamo delle promozioni fantastiche su tutte le nostre vetture d'occasione. Partiamo subito con una carrellata di vetture d'occasione di Casachia, Picanto 8.700 euro, vettura ancora in garanzia ufficiale, 1.000 euro di vantaggio a voi riservati. Spostiamoci su Kia Rio, 1.000, turbo diesel, super accessoriata, 10.000 euro la nostra proposta, anche qui 1.000 euro di vantaggio a voi riservati. Crossover per eccellenza, super accessoriato, Sportage, cambio automatico, tetto apribile, navigatore interno in pelle, 21.950 euro la nostra proposta, 2.000 euro di vantaggio per una vettura con solamente 50.000 chilometri. Non possono mancare chiaramente le proposte sulla motorizzazione del momento, Toyota Yaris Hybrid, ne abbiamo tantissime per soddisfare tutti i vostri desideri, tutti i colori, tutti gli allestimenti, a partire da 9.900 euro. Spostiamoci su Mercedes, classe A, bassissima percorrenza chilometrica, per questa vettura immatricolata nell'anno 2009, anche qui 1.500 euro di vantaggio a voi riservati, venite a scoprire tutti i suoi accessori. Spostiamoci su una vettura di casa Fiat pari al nuovo, solamente 3.800 chilometri per questa Fiat Punto, super accessoriata, 9.300 euro la nostra proposta, 1.000 euro di vantaggi riservati su quest'automobile, pari al nuovo. Continuiamo con una vettura molto comoda per le vostre prossime vacanze, super accessoriata questa Ford Focus Station Wagon Titanium, attenzione al prezzo, 10.900 euro la nostra proposta, 1.500 euro di vantaggi riservati. Questa è sicuramente la stagione adatta per passare a questa splendida DS3, cambio automatico, interni in pelle, navigatore, 13.900 euro la nostra proposta, 1.500 euro di vantaggi a voi dedicati. Come sempre, questa è una piccolissima parte dell'ampissimo parco auto d'occasione a voi dedicato, oltre 1.000 vetture accuratamente certificate, per garantirvi il miglior servizio e la miglior qualità, perché non dimenticatevi che per noi un cliente è per sempre. Bene, questa era soltanto una breve rassegna, c'è molto di più, ma ricordiamo anche tutta la gamma Subaru in pronta consegna, con zero pensieri per quanto riguarda il service. Hai detto bene, tutta la gamma in pronta consegna, tutta la gamma a vostra disposizione per effettuare il test drive, e vi ricordo, 5 anni di garanzia, chilometraggio limitato, i primi 3 tagliandi, ve li regaliamo noi, e soprattutto la super valutazione del vostro usato. Bene, grazie, buon lavoro. Grazie mille a tutti voi, come sempre per l'attenzione, vi aspettiamo qui in Corso Ferrucci 24 a Torino. Qualità garantita 7 anni. E voltiamo pagina parlando del marchio Kia, un altro marchio, un altro mondo, che esploriamo a 360 gradi in compagnia di Roberto Loconti. Benvenuti a tutti voi in Kia, 7 anni di garanzia per questo prestigioso marchio, dall'elevatissima qualità costruttiva, venite qui in Via Cialdini, numero 5, nuovissima sede del gruppo, a scoprire tutte le vetture in pronta consegna, e soprattutto a provarle su strada. E cominciamo a parlare di Kia Picanto. Assolutamente sì, la piccolissima 2.250 euro di vantaggi, e su tutta la gamma GPL in pronta consegna la possibilità di aderire al tasso zero. Spostiamoci su Stonic, il piccolo crossover cittadino, tutta la gamma, anche qui in pronta consegna, introvabile, fino a 3.800 euro di incentivi. Sportage, il crossover per eccellenza, fino a 6.000 euro di incentivi, grazie al metodo di pagamento scelta Kia. E attenzione, per le partite IVA, promozione spettacolare, fino a 8.000 euro di sconto a voi riservato. Continuiamo con Niro, l'ibrido per eccellenza, fino a 4.000 euro di supervalutazione usato. Non dimentichiamoci Sorrento, anche qui pronta consegna, fino a 12.000 euro di supervalutazione. E Kia venga, il piccolo monovolume, con 4.500 euro di supervalutazione, su tutte le vetture in pronta consegna. Bene, una scelta intelligente, una scelta varia, quella di Kia, sette anni di garanzia sono molto importanti, ve lo ricordo, e vi ricordo anche i finanziamenti e le supervalutazioni. Molte agevolazioni in corso, approfittatene dunque. Ma ricordiamo che all'interno di questo showroom non c'è soltanto comunque il mondo Kia, ma tantissime occasioni vi attendono. Assolutamente sì, tante vetture d'occasione, per soddisfare tutte le vostre esigenze, e quindi vi invito qui in Via Cialdini numero 5, in questa nuovissima sede, per scoprire tutte le alternative al nuovo, e toccare con mano la gamma Kia. E non dimenticatevi che per noi un cliente è per sempre. Parole sante, io ti ringrazio Roberto alla prossima, ringrazio voi per l'ascolto, e come sempre linea la regia.